ciao a tutti in questo video oggi vi mostro alcuni stampi che mi sono stati mondati che mi sono stati mandati da Ilaria ecco qua il suo bigliettino da visita allora intanto leggiamo cosa c'è scritto qui grazie mille per aver deciso di collaborare con me questi sono solo alcuni dei miei stampi aspetta una tua recensione sui miei stampi qui un omaggio per te allora apriamo vediamo già l'omaggio dentro c'era anche il bigliettino da visita beh io ho già visto questo in realtà eccolo qua è un altro stampino non so esattamente cosa sia guardandolo da sotto potrebbe sembrare un alberello di natale ma non lo so allora ve li faccio vedere tutti e poi do un mio giudizio a primo impatto tiriamo di fuori allora io ho guardato i suoi stampi e gli ho segnalato quelli con i piedini e cristalli e lei mi ha mandato questo in più quindi partiamo da quello che mi ha fatto lei allora la gomma è molto morbida quindi deve aver utilizzato una gomma tipo cioè che rimane appunto piuttosto morbida da sformare il che è comoda da sformare può essere solo un problema se voi volete prendere lo stampo e spostarlo perché quando avete ancora la resina ancora morbida perché essendo morbido rischiate di smuoverlo tutto allora qua ci sono delle ciambelle un cuoricino e due orsetti stile aribo lo stampo è piuttosto lucido quello che posso dire che vedo in questo stampo a primo impatto e anche negli altri e che esteriormente quindi parlo nelle parti esterne lo stampo è un po' sporco allora questo non va a intaccare poi la resa dello stampino tranne qua che bisogna andarlo a ripulire un po' semplicemente quello che posso dire a livello estetico c'è da lavorarci un pochino su sia i bordi rialzati che io consiglio di trovare il modo di tagliarli e lei lo ha fatto qua non è fatto proprio in modo preciso quindi bisogna capire se poi lo stampo è abbastanza stabile quindi anche se è impreciso comunque rimane stabile bisogna lavorare un pochino sull'estetica l'estetica non è importante più di tanto quando si tratta di stampi la cosa importante è la forma vedete che qua c'è ci sono dei pezzettini comunque l'importante è come rimane al suo interno quindi poi quando si va a creare però comunque anche l'occhio vuole la sua parte quindi posso consigliarti di dedicarti un po di più un po più di attenzione anche alla figura estetica e cercare di metterli in posti su piani dove magari prima hai ripulito un po meglio quando fai la colatura ti posso consigliare magari di coprirli di modo che la polvere perché poi questo è più che altro polvere non gli non gli finisca sopra perché poi sono sono maledetti gli stampi fatti a mano in gomma siliconica perché gli si appiccica di tutto quindi bisogna stare molto 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 attenti comunque questo è l'altro stampo e c'è alcuni lucidi e altri opachi poi c'è questo qua grande che è opaco gli avevo già detto io che li volevo opachi e questi dovrebbero essere tre cristalli ora mi sembrano semi lucidi qui c'è il puntino per fare il foro qua devo capire il foro sarà un po più storto ok e qua invece è dritto di per sé non non vado a giudicare lo stampo all'interno perché non lo so devo provarli quindi li proverò faremo uno scopriamo insieme vedremo come usciranno fuori le creazioni da questo punto di vista appunto io posso solo dare momentaneamente un giudizio estetico e dico solo questa cosa qua vedete anche qua non è bruttissimo cioè non è brutto brutto però è esteticamente non è il massimo da vedere no però l'importante non è l'estetica appunto e che funzioni quindi prima andiamo a vedere se funziona e poi vediamo anche da quel punto di vista essendo che anche se è una collaborazione io devo essere onesta devo dire quello che penso e quindi lo dico ma non vi preoccupate che comunque a lei gliene ho già parlato prima di postare il video quindi lo sa che ho detto queste cose nel video e sa che appunto è solo un giudizio ed è sono dei consigli dal punto di vista estetico e basta dal punto di vista proprio pratico quindi da come funzionano questi stampi vi farò poi uno scopriamo insieme più avanti e vi dirò appunto vedremo insieme come sono venuti i risultati li potremmo parlare riguardo proprio la sua la loro funzionalità comunque questi sono sempre i suoi dati ve li segnalo di nuovo se mi mette a fuoco ok eccoli qua quindi comunque voi andate a vedere gli stampi che è nato tantissimi su facebook glielo visti tutti lì ma anche appunto il contatto instagram e per qualsiasi cosa contattatela e niente magari la conoscete già ditemi se avete già comprato da lei oppure no lasciatemi i vostri giudizi i vostri pareri nei commenti iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti io comunque ti ringrazio tantissimo per avermi chiesto di recensire i tuoi prodotti e non vedo l'ora di provarli così potrò recensirli oltre che a livello estetico anche proprio a livello tecnico e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video quando sarà pronto vi apparirà qua sopra e vi apparirà ovviamente anche a fine di questo video tra i video consigliati il video dello scopriamo insieme di queste creazioncine un bacione a tutti e ci vediamo presto ciao